Pranzo e cena a Favara per nottamento ad Agrigento o viceversa. Non è un nuovo pacchetto turistico acquistabile online, ma il paradosso quotidiano che da decenni intere famiglie Favara-Agrigentine vivono. Stiamo parlando delle decine di famiglie che vivono in abitazioni costruite negli anni boom dell'abusivismo edilizio, proprio in lotti di terreno a cavallo tra i confini di Agrigento e Favara. A questi nuclei familiari vanno aggiunti anche quelli, e sono centinaia, di favaresi doc che hanno realizzato il sogno della prima casa dopo anni di sacrifici, costruendola interamente sulla parte di territorio del capoluogo che entra prepotentemente nel nucleo abitativo di Favara. Ma il disordine dei confini non riguarda solo la famosa Favara-Ovest, al centro anni fa di un'importante azione di riqualificazione urbana da parte del Comune di Agrigento. Favara-Agrigento si intrecciano e si abbracciano in tante altre contrade, anche distante tra loro. Dalla zona industriale di Contrada San Benedetto a Contrada Portella, dal Saraceno al Fegotto, da San Pietro a Casena, dalla miniera Ciavolotta al Valorecchimento, è tutto un groviglio di costruzioni ed insediamenti industriali e commerciali che non pochi problemi di natura tributaria hanno dato ai rispettivi proprietari. Da un lato cittadini che chiedono interventi di manutenzione e strutture, dall'altro enti che non sentono propria l'appartenenza delle porzioni di territorio. Finalmente, dopo vent'anni di discussione bilaterale tra le rispettive amministrazioni e consigli comunali, all'orizzonte c'è una schiarita. L'iter amministrativo, lungo e tortuoso, ha visto coinvolgere inizialmente nel 1995 le amministrazioni aeroe Sodano, seguite poi da una parte da quelle guidate da Vetro e Russello e dall'altra sponda all'ombra dei Templi, da Piazza e Zambuto, con i rispettivi consigli comunali, all'interno dei quali sono state sempre istituite apposite commissioni sulle rettifiche territoriali. Pochi giorni fa l'annuncio da parte dei presidenti delle rispettive commissioni consigliari Antonio Fallea per Favara e Francesco Picone per Agrigento, dell'accordo politico raggiunto e che prevede la cessione di Favara Ovest a Favara e una parte dell'area industriale ad Agrigento. I dettagli dell'accordo sono stati illustrati oggi ad Agrigento presso l'aula sollano del Palazzo Municipale. Ma la conclusione dell'iter avverrà subito dopo il coinvolgimento diretto dell'agente. La legge infatti prevede un referendum popolare a cui saranno chiamati i cittadini interessati dalla questione ad esprimere il proprio consenso. Io vorrei sottolineare che questo accordo raggiunto è un accordo importante perché rende giustizia innanzitutto alla nostra città di Favara nel senso che i nostri concittadini che abitano nella zona di Favara Ovest o nella zona di via Ugo Lamalfa e d'Indorni da questo, non da questo momento, dal momento in cui sarà celebrato il referendum che chiude questa pagina questi ritorneranno effettivamente cittadini, scusate il bisticcio di parola, a tutti gli effetti della città di Favara. Nesta vicenda oggi finalmente la città di Agrigento entra all'interno della zona Asi, un grande paradosso questo, cioè che all'interno della zona di sviluppo industriale l'Asi quindi di Agrigento, il comune di Agrigento non facesse parte perché non aveva fino ad oggi alcuna particella, alcun territorio. E oggi sono un uomo felice perché è questo quello che io mi prometto ogni qualvolta che mi candido al comune di Favara. Credo di avere dato anche ad Agrigento una chance, adesso nella zona industriale gli attori diventano tre, c'è Favara, c'è Aragona, c'è anche Agrigento. Credo che la sinergia tra questi tre enti debba, possa portare sviluppo a questa nostra marturiata provincia. Finalmente dopo 25 anni, noi devo dire che in sole sette sedute siamo riusciti a raggiungere un grande obiettivo, un grande traguardo ma che è anche un punto di partenza perché adesso noi abbiamo dato un assist, abbiamo dato uno strumento importantissimo all'amministrazione che deve adesso predisporre tutto, coinvolgendo tutti gli uffici, tecnico, demografico, patrimonio, amministrativo, eccetera, per predisporre la relazione tecnica che dovrà essere poi portata al vaglio del Consiglio Comunale.